Villa Porto Verde è una meravigliosa location immersa nelle verdi campagne toscane e circondata da un incantevole parco. Grazie ai suoi ambienti esclusivi consente di vivere la giornata del matrimonio in modo tranquillo, unico ed esclusivo. La villa mette a disposizione degli sposi che desiderano realizzare un perfetto ricevimento nuziale un immenso giardino al cui interno sono presenti alberi secolari e simpatiche statue in cotto. Lo spazio è allestibile con vari tavoli e sedie per oltre mille persone. All'esterno sono presenti anche una suggestiva piscina e una tenso struttura coperta, pavimentata e chiudibile, con una capienza di 300 persone, utilizzabile dagli sposi per realizzare la festa di matrimonio in modo originale e particolare. La location è in locazione per gli sposi che desiderano trascorrere il giorno del loro matrimonio in Toscana. Vi è un'ampia cucina a disposizione del catering, oltre a due bagni, uomo e donna, e a un simpatico parco giochi per gli invitati più piccolini. Gli sposi che lo desiderano possono inoltre celebrare la cerimonia religiosa presso la chiesetta della Madonna del Porto, una suggestiva ambientazione del Seicento dove vivere il solenne momento del rito. Scegliendo Villa Portoverde come location delle vostre nozze avrete la certezza di vivere il vostro grande giorno avvolti da un'atmosfera ricercata e all'altezza di un evento importante come quello del matrimonio.